Nella dottrina sociale della Chiesa, con la sua visione integrale dell'uomo come essere, personale e sociale, c'è l'indicazione che dovete seguire. Lo ha ribadito Papa Francesco incontrando una delegazione dell'Istituto Dignità Tissumane guidata dal Cardinale Martino. Papa Francesco ha notato che nella dottrina sociale si riafferma la difesa della libertà religiosa, della vita in tutte le sue fasi, del diritto al lavoro e al lavoro decente, della famiglia, dell'educazione. Ed è necessaria allora un'opera di sensibilizzazione e formazione affinché i fedeli laici, specialmente quelli che si impegnano in campo politico, sappiano pensare secondo il Vangelo e la dottrina sociale e agire coerentemente, dialogando e collaborando con tutti quei non cristiani e non credenti, e sono molti, convinti che la persona umana debba essere sempre un fine e mai un mezzo.